Televisione. Trasparenza. Il brano è una riproposta dell'originale senza alcuna modalità di trasformazione, senza aspetti parodistici, in modo assolutamente sobrio. Qui la cover diventa una sorta di omaggio, disagio storiografico. Si tratta in genere di canzoni particolarmente importanti nella storia del pop. Esempi, Giorgio My Mind, cantata da Serena, Marco in Man in the Mirror.